Ricordo quella sera come se fosse ieri. Era il 23 dicembre e ti chiesi così, quasi senza pensarci, se fossi libera per una serata tra amici. Sono passati più di 12 anni e mezzo da quella sera, ma da quel momento qualcosa è nato dentro di noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lei, signor Loris Bettoni, intende prendere in moglie la più presente Laura Archetti? Lei, signora Laura Archetti, intende prendere il marito qui presente, Loris Bettoni? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché il profilo migliore probabilmente è... Grazie a tutti. 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 Sono l'unica che non può bere quindi... perché sono incinta. Viva la sposa! Beh, mi è senza felice. Che dire? Viva i sposi! Viva i sposi! Viva i sposi! Grazie ancora a tutti! Bravo! Non faccio piangere di nuovo! 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 Saremo morti e difunti. Guarda il backstage. Guarda il backstage, guarda il backstage. Allora, abbiamo lo sposo più bello di tutta la Toscana. Backstage. Mi petto testardo, pregio che ha un cuore grandissimo. Andiamo! Uno, due, tre, backstage! Laura l'ho conosciuta circa 12 anni fa. Lei partiva prima di me, quindi mi teneva al posto sul pullman. Poi è iniziato tutto così. Auguri agli spazi e backstage! Spero che sia una giornata fantastica come loro si aspetta. Non è il momento. Bene, a parte che ho pianto sul finale. Non ci voleva. Backstage. Adesso ti filmi tutto... Due cose. La mia nuova compagna, nonché la moglie il testimone. No, adesso sono tranquilla. Uno, due, tre, backstage! Il difetto... È un po' testarda. Ci sono poche cose al mondo delle quali sono fermamente convinto. Ma so che al centro di tutto ci sei tu, che ti amo e che tenendoci per mano arriveremo lontano. Prometto di essere la tua più grande complice. Di essere sempre la luce che ti guiderà nei momenti bui. E prometto di donarti amore vero, puro e incondizionato per tutto il resto della nostra vita. Grazie. 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 Grazie.